Dall'India all'Azerbaijan, dall'altra parte del pianeta, dove ha partecipato due settimane fa ai campionati mondiali Under 20, a Baku, teatro da venerdì sino al 13 settembre delle Olimpiadi di Scacchi, tra le protagoniste iscritte c'è anche una barlettana, Alessia Santeramo compirà 18 anni ad ottobre, ma già può vantare numerose esperienze in campo internazionale e diverse convocazioni in maglia azzurra. Ora si appresta ad affrontare la prima avventura ai giochi olimpici della sua carriera, dopo Veronica Inglese, protagonista a Rio de Janeiro 2016 nell'Atletica, ecco un'altra barlettana, Alessia Santeramo. Sono euforica, contenta, è il gradino più alto per ogni atleta, le Olimpiade, sono fiera di rappresentare l'Italia in una manifestazione così importante. Ho rappresentato l'Italia nel mondiale in India, adesso dopo una settimana le Olimpiadi e dopo le Olimpiadi, dopo solo tre giorni, ripartirò per la Russia, per il mondiale Under 18. Quindi è sempre un onore rappresentare l'Italia in queste competizioni di altissimo livello e spero di farlo al meglio. È un sogno che si realizza per lei, ma al tempo stesso l'appuntamento olimpico di Baku rappresenta un nuovo trampolino di lancio per Alessia Santeramo. Al momento è il coronamento di un sogno e voglio viverlo come tale, però ovviamente non è il mio punto di arrivo, ma sarà una nuova partenza. Il feeling è nato fra i banchi di scuola, con un progetto scolastico, quando ero in quarta elementare. Poi ho iniziato a frequentare un circolo e da lì l'amore per gli amici, per i viaggi e per tutto, mi ha portato a continuare fino ad arrivare fin qui. L'attuale tesserata della Lazio Scacchi difenderà i colori della Nazionale insieme ad altre quattro azzurre, Olga Zimina, Marina Brunello, Desiree Di Benedetto e Daniela Movilianu. Il livello sarà inevitabilmente altissimo, ma la voglia di benfigurare non manca. Oggi è il giorno della partenza per Baku, giovedì ci sarà la cerimonia inaugurale. Da venerdì poi si comincerà a fare realmente sul serio. Alessia Santeramo è pronta per fare la sua prima esperienza olimpica e perché no, tornare a casa con qualcosa di importante. In realtà le aspettative non sono della vittoria, perché ovviamente ci sono squadre molto più quotate, ma le ambizioni sono quelle di arrivare al podio, sarebbe un sogno, ma perlomeno nelle prime dieci. Individualmente di replicare quello fatto l'anno scorso, ovvero la medaglia a livello individuale.